Nessun apparentamento da parte della lista di Berio in vista del ballottaggio a Domenia, ai nostri microfoni il perché. Il ministro Garavaglia in un anno complicato il turismo fa la differenza sulla nuova funivia del Mottarone e occorre passare dalle parole ai fatti. Da lunedì fino a metà luglio chiusura notturna per lavori del ponte di Sesto Calende di giorno senso unico alternato. Tra Regovigiona vuole la bandiera aranciona e il sogno nel cassetto del nuovo sindaco Sebastian Nicolai. Si chiude domani il festival Arca di Noa Adarona, protagonista la cantante israeliana e tanti altri musicisti per serate sempre diverse. A Verbania, Villa Giulia, lunedì giornata dedicata all'enogastronomia con saperi e sapori, vini ed eccellenze piemontese. Una buona serata dalla redazione di VCO Notizie. In apertura di giornale il ballottaggio a Omenia perché era attesa per oggi la posizione di Omenia si cambia, la lista che ha sostenuto il candidato sindaco Berio dopo le consultazioni delle scorse ore, lista che ha avuto il sostegno del 22% dell'elettorato. Berio, al microfono di Daniele Piovera, ha spiegato nessun apparentamento. Allora, conferenza stampa per annunciare la scelta di Omenia si cambia, una scelta che va ufficialmente nella direzione di un non apparentamento né col centro-sinistra né con il centro-destra. La motivazione di questa scelta è perché fondamentalmente non saremmo riusciti in entrambi i casi, nonostante noi abbiamo avuto delle buone aperture sia dal centro-destra che dal centro-sinistra, non saremmo riusciti a rispettare quei due principi fondamentali del nostro programma, cioè dell'efficienza e della trasparenza. Alcuno dice avete scelto di non decidere, è così o no? Chi ha scelto di non decidere purtroppo, devo dire, sono stati i cittadini omenesi, perché se noi guardiamo i dati noi abbiamo preso 1300 voti su 13.000 elettori. Noi non possiamo snaturarci e vicariare un loro dovere facendo qualcosa in cui non crediamo. Non è un mistero che ci fosse, che sia stata una discussione all'interno di Omenia si cambia. Dopo questa discussione e decisione, Omenia si cambia, esce più forte o meno forte? Esce più forte perché un insieme di persone che pur con idee diverse, posizioni diverse, alla fine si ricompattano su una decisione, vuol dire che alla fine esce più forte. Il nostro elettorato è eterogeneo, è fatta di persone, di individui che hanno un loro pensiero e ci sono alcuni che non voteranno mai il centrodestra e ci sono alcuni che non voteranno mai il centrosinistra. Quindi, Omenia si cambia, si asterrà dal dare indicazioni di voto ai propri elettori in vista del ballottaggio, rinnovando tuttavia a tutte le forze politiche e anche ai cittadini la propria piena disponibilità a lavorare al fianco dell'amministrazione che risulterà vincitrice, portando le nostre proposte sia attraverso i consiglieri di minoranza, ma anche con un mio personale affiancamento alla Giunta, da interno, dall'esterno, da tecnico, da consulente, da amico, da suggeritore, chiamatemi come volete, non è la definizione che mi interessa, quello che mi interessa è fare di Omenia una città in cui tutti si riconoscano e dove sia piacevole crescere, vivere e lavorare. E restiamo a Omenia dove nelle scorse ore è arrivato il Ministro del Turismo Massimo Garavagna. Signor Ministro, ci siamo lasciati al Montarone, il turismo finalmente riprende, adesso siamo in Riva al Lago. Mai come in questo periodo, in questo momento, con i problemi e le difficoltà che ci sono, il turismo sta diventando davvero, lo era già prima, la prima industria del nostro Paese. Ma in un anno che è particolarmente complicato, perché il primo semestre è buono, l'ultimo trimestre dell'anno rischia di essere complicato per via del costo dell'energia eccetera, è il turismo a fare la differenza, questa è una bella cosa per tutto il Paese, quindi se l'economia tiene è anche e soprattutto grazie al turismo. Per cui, bene, però dobbiamo investire ancora. Per esempio, parlava di Montarone, stiamo vedendo appunto di rifare la funivia, perché non si può lasciare un pezzo di Italia così bello martoriato per via di questa tragedia. Bisogna passare dalle parole ai fatti, però questa è la nostra abitudine e lo facciamo. Un problema che mi sembra un paradosso, insomma, c'è il lavoro ma anche nei lavoratori. Sono tutte le risparate ricerche di camerieri, di personale, di cuochi, è quasi un'anomalia. È evidentemente un paradosso frutto di meccanismi che non riescono a far incontrare domande e offerte di lavoro. Questo è un dato di fatto oggettivo, non puoi avere 9% circa di disoccupazione e ti mancano solo nel turismo 300-350 mila persone. Se guardiamo gli altri settori si supera il milione, è chiaro che c'è qualcosa che non quadra. Si possono alzare gli stipendi, per amor di Dio, si può fare tutto, sì, però è anche un problema per le imprese, perché giustamente il lavoratore guarda il netto, per le imprese c'è il lordo, che è il doppio del netto. Quindi in un momento in cui, pensiamo al turismo, per un ristorante l'energia aumenta del 60%, è difficile dire pago di più di quello che sono i contratti. Quindi è davvero complicato. È per quello che ho proposto, dall'altro ho già fatto delle cose, perché la decontribuzione è operativa, quindi c'è la decontribuzione per gli stagionali. Però non basta, evidentemente, per questo che ho proposto, di lasciare metà del reddito di cittadinanza a chi lavora, quindi consentire il cumulo. Questo è un modo per venire incontro alle due istanze. Più soldi in busta paga da un lato e senza gravare sull'azienda e dall'altro, perché in questo momento le aziende non ce la fanno. Recuperata una bagnante dispersa nel lago Maggiore tra Angera e Arona, tanto spavento, ma la donna sta bene. Alle 15 circa la sala operativa della Guardia Costiera di Genova ha ricevuto una segnalazione giunta dai carabinieri di Angera. Circa una donna dispersa dall'idola noce di Angera si era allontanata per una nuotata verso il centro lago. Il marito, dopo diverso tempo che era entrata in acqua, l'ha cercata con gli occhi e non l'ha più vista, pertanto ha dato l'allarme. La chiamata è stata subito dirottata alla sala operativa del secondo nucleo mezzi navali Guardia Costiera a Lago Maggiore. All'istante il battello veloce GC A72, che era intento in attività di pattugliamento presso la zona di lago antistante ai canneti di Dormelletto, è stato dirottato verso Angera. Sul posto anche l'elicottero dei Vigili del Fuoco e i sommozzatori che si sono uniti alle ricerche. L'elicottero alle 16.03 ha avvistato sulla sua verticale una donna che corrispondeva alla descrizione avuta dal marito. Il battello veloce l'ha raggiunta hissandola a bordo. Era in apparenti buone condizioni di salute. Dopo circa un'ora dall'allarme, la signora è stata sbarcata ad Angera. Le è stata prestata l'assistenza sanitaria da parte del personale 118. Da lunedì sul ponte di Sesto Calende partono i lavori per la sostituzione dei giunti di dilatazione e chiusura al traffico nella fascia notturna e di giorno si viaggia a senso unico alternato. Ci spiega tutto il sindaco di Castelletto, Massimo Stilo. Ponte di Sesto Calende e Castelletto che unisce le due regioni. Ci sono dei lavori prossimi per cui ci sarà una viabilità ridotta. Sì, abbiamo finalmente questa data che è tanto attesa, purtroppo detta con poco anticipo. Infatti avrebbero voluto iniziare l'11.13 ma ho chiesto espressamente che fosse rinviata al 20 proprio per poter avvisare la cittadinanza. Verrà chiusa nelle ore notturne dalle 22 alle 6 e dalle 6 alle 22 sarà in alternato e quindi garantiranno il flusso. Ci saranno sicuramente problemi di viabilità però dobbiamo portare pazienza anche perché fanno degli interventi sulle due fasce di testata, sui giunti. Ritengo una cosa importante e quindi è meglio un piccolo sacrificio oggi che un grande sacrificio fra 4 anni. L'importante per me è che Anas dia sempre un'informazione corretta e così finalmente siamo riusciti a farci contattare e a poter dialogare con loro. Mi spiace per eventuali disagi che potrebbero succedere, cercheremo di dare una mano anche noi ad evitarli e sappiamo con certezza che ferrovie non succederà niente adesso ma dal 29 di agosto al 16 settembre verranno chiuse totalmente sotto la parte ferroviaria ma verrà garantita una navetta gratuita da Trenitalia da Sesto a Rona a Rona a Sesto. Quindi speriamo di non avere troppi disagi, mi hanno dato un tempo massimo di tre settimane e probabilmente finirà anche prima, me lo auguro. Tra Regovigiona vuole la bandiera arancione, il sogno nel cassetto del nuovo sindaco Sebastiano Nicolai che lavorerà in questi 5 anni anche per ottenere l'ambito vestillo. Sebastiano Nicolai è il nuovo sindaco di Tra Regovigiona, raccoglie un'eredità importante, quella di Renato Agostinelli che per 15 anni è stato alla guida dell'amministrazione e allora come affronta questa sfida e come raccoglie questa eredità? Allora intanto con molto entusiasmo, nel senso che aver avuto un risultato del genere dalle elezioni ha dato una spinta di entusiasmo a me e ai colleghi della futura e ormai attuale maggioranza veramente forte. Quindi lo affrontiamo con entusiasmo, lo affrontiamo in stretta collaborazione anche col sindaco uscente, con Renato che oltre ad essere sindaco uscente è un amico e pronti per le sfide che ci saranno da qui in avanti. Prime cose da fare in paese? Allora vogliamo assolutamente riprendere in mano la cura del verde anche perché siamo per certi aspetti fortunati perché è terminato un appalto proprio in questo momento quindi vogliamo riprendere con il nuovo appalto e sistemare molto la parte del verde pubblico perché Trarego, Vigiona, Cheglio sono tre borghi meravigliosi e sono meravigliosi in primis per le persone che ci vivono ma vogliamo renderli sempre più belli. Quindi migliorare la qualità della vita di chi ci vive, migliorare quindi i luoghi per i turisti perché ricordiamoci comunque che la parte turistica è fondamentale per il nostro territorio e dare risposte a quei piccoli e grandi problemi che magari sono ancora da risolvere. E invece i programmi a lungo termine, al termine del quinquennio, che cosa le piacerebbe vedere realizzato? Il mio obiettivo in primo luogo è riuscire a raccogliere e utilizzare tutte le risorse che possono arrivare. I prossimi due anni saranno fondamentali per i bandi del PNV, quindi arriveranno numerose risorse che dobbiamo avere la capacità di utilizzare e questo è fondamentale. E sarà grazie a queste risorse che potremo concretizzare i grandi sogni nel cassetto che ovviamente come amministrazione abbiamo e che troveranno compimento tra cinque anni. Non nascondo che uno dei miei sogni è riuscire a diventare bandiera arancione del touring, ad esempio. E questo richiede un grande sforzo e un grande investimento nel territorio. A Trarego, tra l'altro, un'impennata rispetto all'affluenza, la più alta nel VCO e anche una delle più alte d'Italia. Infatti ci tengo veramente a dire grazie. Grazie a tutti i residenti, a tutta la popolazione che ha capito l'importanza di votare, anche se per una lista sola, e questo risultato ci rende davvero orgogliosi. Il Sassonello Stagno, riflettori puntati sul Sempione. Il settimanale condotto da Maurizio De Paoli torna anche domenica alle 14. Nella puntata di questa settimana del Sassonello Stagno abbiamo parlato del Sempione, della sua importanza nella strategia della mobilità europea tra il nord e il sud dell'Europa. E lo abbiamo fatto con i nostri ospiti, che sono stati Marco Cerutti, di Confartigianato Piemonte Orientale, e con l'ex presidente della provincia del VCO, Arturo Lincio. Ed è proprio all'Arturo Lincio che chiedo, cosa bisogna fare per riportare al centro dell'attenzione, della politica soprattutto, l'importanza strategica del Sempione? Beh, certamente è necessaria una presa di conoscenza e la volontà da parte degli enti amministrativi, ovviamente che, ad esempio, come provincia noi abbiamo fatto una richiesta appoggiata dai comuni di Domodossola, di Villadossola, quelli interessati allo scalo ferroviario Domodue, di costituzione di un CIG alla presidenza della Regione. Per ora non ho conferma che ciò sia avvenuto, ma poi ci sono altri organismi come quelli che coinvolgono anche le attività imprenditoriali. fondamentale è stato anche nel nostro convegno, diciamo, nel nostro incontro del Calvario, la Camera di Commercio, il presidente Ravanelli, ha veramente dato un apporto sostanziale. La Camera di Commercio, tra l'altro, notiamo che ormai è delle quattro province, quindi l'interesse della Camera di Commercio è importante, quindi gli operatori economici devono per forza far sentire la loro voce. E posso dire che quelli di Alessandria, ad esempio, la fanno sentire sul Sempione, perché è il retroporto di Genova, molto di più di quanto non lo facciano quelli del VCO. Grazie, Presidente. Ad Arona è in corso il Festival Arca di Noa, con tre serate musicali alla Rocca, insieme con la cantante israeliana ed altri musicisti. Stasera riflettori puntati sul repertorio napoletano, e poi la cantante sarà ospite del trio guidato dal pianista Nicola Piovani, premio Oscar per la colonna sonora del film La vita è bella. Domenica il Gran Finale, protagonista sarà il jazz con un programma dal titolo I miei amici geniali, che vedrà sul palco Noa e Gili, insieme a una formazione che comprende anche alla batteria il sindaco di Arona, Federico Monti. Inizio sempre alle ore 20 l'apertura del Festival, invece con un incontro in piazza San Graziano, un dibattito dedicato al tema della pace. Noa ha scelto Arona per festeggiare i suoi 30 anni di musica. Sì, sono onorata di essere qui in questa bellissima città vicino al lago per celebrare questi 30 anni con tre notti diverse di musica con amici. Grande onore e piacere. Hai ricordato che ogni sera ripeterai la canzone di La vita è bella con il film di Benini? Sì, perché La vita è bella è sempre rilevante. È rilevante per la musica The Buck, per la musica jazz, per la musica italiana, naturalmente con Piovani. Lei ha vinto anche il premio artista per la pace. Sì, ho ricevuto molti premi, ma questo è il pellegrino di pace delle franciscane, è veramente molto importante. Io amo molto la filosofia di aiutare il povere, della modestà, con le gare della natura. Io amo molto. Lei che ha visto molte guerre, ha detto che questa guerra in Ucraina è una tragedia, ma anche un'opportunità. Sì, è una tragedia, è un'opportunità di imparare a vivere in un modo nuovo, in un mondo che cambia, dove dobbiamo creare coalizione, coalizione delle gente che vogliono vivere, che vogliono vivere per il futuro, insieme. Compadre Enzo Fortunato, un'area francescana, un'area di assisi qui a Darona? Un'area di assisi, un'area di Roma, perché adesso siamo a Roma e credo sia bello poter dirci in questi giorni di guerra che ci sono uomini e donne che vivono per la pace e oggi ci sono state testimonianze straordinarie. Penso a Rondine, penso all'Opera San Francesco, penso al contributo di Noa e penso alla brava gente che ci segue un po' da tutte le parti del nostro paese, che è assetata di pace, desidera la pace e vuol vedere la pace. Questo festival, appunto, con un prezzo contenuto a 5 euro, si è ottenuto grazie anche al sostegno degli sponsor. Gli sponsor, per forza di cosa, devono sostenere un evento di questo genere. I 5 euro sono proprio la determinazione di voler dare un contributo alle povertà e verranno quindi devoluti a queste due associazioni che si occupano e delle vitevi di guerra e, per quanto riguarda in Italia, per i poveri. Ed ora la donazione al reparto di traumatologia dell'Asla VCO presso l'ospedale San Biagio di Domodossola. Una donazione del valore di circa 8.500 euro da parte dell'Associazione Amici Fino all'Osso al reparto di ortopedia e traumatologia dell'Asla VCO. Che cosa avete regalato e perché? Abbiamo regalato delle strutture che ci sono state richieste dagli operatori un po' a sostituire strutture che si sono consumate nel tempo e un po' altre che ormai erano obsolete perché non più funzionali a quello che servivano. In particolare abbiamo regalato tre carrelli di medicazione che vengono utilizzati nella Sala Gessi e negli ambulatori che proprio per la loro frequenza di utilizzo vanno incontro a un'usura progressiva. Poi abbiamo regalato sei televisori, uno per ogni stanza del reparto di degenza dell'ortopedia perché almeno il paziente che non sa che cosa fare durante il giorno a parte le fisioterapie, a parte le terapie pratiche ha la possibilità di passare un po' il tempo i pazienti dell'ortopedia sono molto frequentemente anziani che hanno bisogno proprio di un momento di relax davanti alla tv. E infine abbiamo regalato un schermo multifunzione per la rilevazione dei parametri che vengono utilizzati magari nel periodo post-operatorio in momenti di particolare necessità di reparto che si era consumato, si era usurato purtroppo tutte queste cose le associazioni di volontariato hanno la possibilità di farle pergiungere in modo molto snello perché noi facciamo contrattazione diretta nel momento in cui sappiamo dalle caposale, dalle infermiere che c'è questa esigenza, riusciamo a fare a Rivera e queste cose e noi ovviamente dobbiamo ringraziare innanzitutto la bontà degli ossolani che come al solito si manifestano con donazioni con la donazione del 5 per 1000 molto generosi però è anche bello che poi sappiano dove vanno a finire i loro soldi adesso lo vedete insomma, quindi sono contento anche di questo. E restiamo a Domodossola dove è partita la notte gialla la festa è stata ideata dal Comitato Carnevale come evento accompagnatorio alla festa patronale di domenica ai commercianti è stato chiesto di abbellire negozi e vetrine con il giallo e il colore del carnevale un percorso gastronomico anima il centro storico domese occorre un biglietto acquistabile fino all'esaurimento posti ci sono 1500 quelli disponibili ma chiunque arriverà in città potrà comunque assistere ai diversi spettacoli organizzati negli angoli più caratteristici del centro in occasione della patronale ve l'abbiamo anticipato anche la presentazione dei lavori eseguiti in collegiata ed ora vi anticipiamo un altro bel evento enogastronomico che è in programma questa volta a Verbania nella giornata di lunedì a Villa Giulia Saperi e Sapori eccellenze enogastronomiche a Villa Giulia a Verbania segnate l'appuntamento in agenda vi aspetta questo lunedì 20 giugno dalle 11 alle 21 è organizzato dall'assessorato al commercio cittadino con l'obiettivo di evidenziare il patrimonio vitivinicolo piemontese saranno oltre un centinaio i produttori con degustazioni, proposte gastronomiche, momenti culturali un primo evento importante all'interno del progetto del distretto del commercio è un'iniziativa organizzata anche per supportare il settore alberghiero e ristorativo affermano il sindaco Silvia Marchionini e l'assessore al commercio Giorgio Comoli volta a mettere in evidenza le eccellenze del Piemonte e del nostro territorio con una proposta di qualità capace di attirare le attività del settore per questo organizzato di lunedì e semplici appassionati la manifestazione, dicevamo, si svolgerà dalle 11 alle 21 sia nella villa che nel parco in caso di cattivo tempo solo all'interno insieme ai numerosi stand di vino, cibo e delle eccellenze gastronomiche piemontesi nocciole, olio, riso, dolci, solo per fare qualche esempio sono previste iniziative con interviste, approfondimenti con ospiti e produttori show cooking e piatti da gustare durante la giornata ad opera di sei chef del territorio per l'ingresso, previsti per ogni titolare di attività come bar e ristoranti due ingressi liberi mentre per il pubblico il ticket con accesso alle degustazioni costerà 15 euro ancora un appuntamento ma per il prossimo martedì 21 giugno a Orta San Giulio c'è la festa della musica con una serie di esibizioni negli angoli più belli del paese a partire dalle 17.30 alle 20.45 nella Chiesa dell'Assunta il gran finale con il concerto dell'Orchestra Emisferi Musicali e dell'Orchestra Eufonia sempre a Orta è già in corso il Festival Cusiano della Musica Antica con tanti concerti tra il Borgo Ortese e l'Isola e con questa notizia noi chiudiamo vcoazzurratv.it le nostre pagine social per tutti gli aggiornamenti siamo anche su Instagram grazie per essere stati in nostra compagnia buon sabato sera e buona domenica siamo a Baveno che è una delle principali città del Lago Maggiore una città che ha una storia molto importante che riguarda il granito rosa che caratterizza tantissimi musei in tutto il mondo la storia degli scalpellini sul nostro lungolago trovate in tutte le panchine fatte di granito rosa il gioco degli scalpellini che è per noi un simbolo queste persone che lavoravano il granito che hanno esportato la lavorazione del granito in tutto il mondo oggi però Baveno è anche una delle principali città turistiche negli ultimi vent'anni soprattutto ha avuto la capacità di perseguire questo percorso di sviluppo turistico lo ha fatto innanzitutto godendo delle bellezze del Lago Maggiore ma anche attraverso una serie di iniziative importanti negli ultimi anni abbiamo lavorato anche attraverso le cave attraverso le nostre colline, le nostre montagne a dei percorsi, dei sentieri outdoor per migliorare e sviluppare altre forme di turismo in questo senso abbiamo aperto le vie ferrate che sono dei percorsi escursionistici attrezzati che sono divisi sia per principianti che per più esperti sono percorsi sul granito sul nostro Monte Camoscia dove c'è il granito rosa ed è per noi oggi un'eccellenza assolutamente importante e fondamentale per Baveno e per tutto il territorio grazie al Bando Gall siamo riusciti a realizzare sulle pendici del Monte Camoscia e lungo i vecchi percorsi che erano utilizzati dagli scalpellini percorsi che permettono una accessibilità migliore alla via ferrata esistente siamo riusciti a realizzare una nuova parte di ferrata più sfidante che è dedicata agli escursionisti esperti durante la salita sia sull'una che l'altra ferrata si hanno sempre dei panorami e se sempre a contatto con il granito rosa basta girare lo sguardo e si hanno dei panorami mozzafiato su tutto il Golfo Borromeo e sulle montagne che circondano il Golfo Borromeo fondamentale per queste iniziative è stata la collaborazione con il CAI Baveno con il prossimo Bando Gall speriamo di poter avere fondi per collegare i nostri sentieri con la restante parte della rete sentieristica presente sui comuni limitrofi e fino alle pendici del Motarone Grazie Grazie Grazie